...i abbandonati, quante persone hanno bisogno della nostra vita, hanno bisogno di un sorriso, hanno bisogno di una luce che venga a snotare quelle che sono le telepre, i giornate cubbe, i giornate che non finiscono mai. Ecco dove sono gli uomini che se ne fanno carico, voglio essere polemico, ma non solo sulle navi che si vanno a soccorrere, di persone che hanno telefonini oppure catenine, catene al collo e dice che vengono dalle persecuzioni. Quale persecuzione? Guardiamoci intorno, guardiamo la nostra città, guardiamo la nostra patria, guardiamo le persone che ci sono accanto, che hanno bisogno e io quando ne conosco sono tante, tantissime, sono una marea di persone che si vergognano del loro stato di vita perché non si può dire quante persone, quante persone hanno bisogno della nostra vita, hanno bisogno di un sorriso, hanno bisogno di una luce che venga a snotare quelle che sono le telepre, i giornate cubbe, i giornate che non finiscono mai. Ecco dove sono gli uomini che se ne fanno carico, voglio essere polemico, ma non solo sulle navi che si vanno a soccorrere, di persone che hanno telefonini oppure catenine, catene al collo e dice che vengono dalle persecuzioni. Quale persecuzione? Guardiamoci intorno, guardiamo la nostra città, guardiamo la nostra patria, guardiamo le persone che ci sono accanto, che hanno bisogno e io quando ne conosco sono tante, tantissime, sono una marea di persone che si vergognano del loro stato di vita perché non si può dire...